Ecco qua, allora, sesta puntata. Inizio con una citazione da Sara Lando, che è una bravissima professionista e giovane. Una foto sbagliata è un errore. Mille foto sbagliate sono un progetto figo. E badate chi ha ragione, e non è l'unica ad aver individuato questa cosa. Provate a immaginare, provate a immaginare una foto dei piedi di una persona, o una foto con la testa tagliata via così. Quella foto è un errore. Mille foto di teste tagliate così portano con loro l'analisi di qualcosa, o la sensazione che ci sia l'analisi di qualcosa, che sia vero oppure no funziona. Il progetto seriale ha in sé un gran bel suo perché. Sia concettualmente parlando, perché è vero che nella serialità puoi evidenziare qualche cosa che singolarmente sfugge. E anche è vero che la serialità significa numeri, e numeri a volte significano anche possibilità economiche. Un bel esempio di operazione seriale è stata quella che ha fatto non molto tempo fa, adesso non so quando vedrai questo filmato, però non molto tempo fa, Oliviero Toscani, Parma siamo noi, si intitolava il progetto. Il progetto era recuperare un po' di ragazzi che lo aiutassero a fare, una ventina di ragazzi che lo aiutassero a fare decine di migliaia di ritratti a Parma, di parmensi, di persone di Parma che ritratte finivano poi su un libro pubblicato da Schirà, grande casa editrice di edizioni d'arte. Gran bella mossa perché un'operazione di questo genere si autopromoziona nel momento in cui generi il contatto con le persone che ritrarrai, ha un suo perché concettuale che consente anche di fare comunicazione e anche un suo bel perché economico perché un libro che contiene decine di migliaia di ritratti si vende a diverse migliaia di persone ed è quindi un libro già chiuso, fisicamente parlando, economicamente parlando, finito. Questo progetto poi, sempre la sterpaia di Oliviero Toscani, l'ha rideclinato una variante con, come si chiama, razza umana Italia, che è la stessa cosa, concettualmente, però portata in forma itinerante per tutta Italia, fotografando nei paesi e con la collaborazione delle strutture, delle associazioni e degli enti locali che si mettono a disposizione per questa operazione. Divertente, carina, economicamente intelligente e che fa parlare di sé. Toh, ne stiamo parlando. Una cosa di questo genere, prima che venisse fuori l'operazione dei Toscani, e comunque non abbiamo inventato niente né noi né lui, perché la serialità genera occasioni, l'abbiamo fatta, e il suggerimento è prova a pensare qualcosa di simile per il tuo mondo, l'abbiamo fatta per tessere contatti con persone che ci interessavano. In quel caso chi erano le persone che ci interessavano? Gli addetti legati al mondo del design, perché attorno al design c'è moda, c'è concettualità, c'è produzione, c'è pubblicità, c'è editoria, ci sono anche capitali che si muovono, ci sono persone interessanti. Durante il fuori salone allora abbiamo allestito un set dove gli operatori del design, designers, giornalisti, responsabili di agenzie e così via, venivano a farsi ritrarre. Al sito design-book.org trovi questo giochino rideclinato in quattro modi diversi. Le persone si facevano fotografare, ognuno ripercorreva un modo di farsi fotografare, ad esempio c'era la serie in cui ognuno doveva riquadrare il volto usando le mani e questo testimoniava come ciascuno con le sue mani crea il confine, i limiti al suo modo di essere. E poi altri tre giochi visivi carini seriali che ci hanno consentito di prendere contatto con molte persone, con molti operatori legati al design, fatto in forma volontaria per tutti ma generando contatti umani. Questa stessa cosa può essere ripensata con le strutture, con le persone, con i canali che ti possono interessare. A te la palla per rideclinarlo con le tue idee.